in questo video parliamo di chiaramente allarmi mi è venuto a mente di fare questa piccola presentazione di questo allarme che non se ne sente parlare tantissimo ma secondo me è un prodotto veramente veramente molto valido anche perché ha una caratteristica particolare qui vedete tante scatoline sinceramente sono scatoche sono piene non è che sono scatole vuote ci sono i cablaggi c'è la sirena c'è il pulsante per il cofano cieli i sensori ultrasuoni c'è un pochettino di tutto quello che può servire quindi c'è tutto quello che gli allarmi classici hanno quindi questo è la configurazione dell'antifurto classico di tutte le marche quindi che sia che ne so metà system laser line vodafone gemini che ne so ce n'è un'infinita non c'è nessun problema comunque sono tutti allarmi validi ok quindi non c'è il problema dell'allarme più o meno valido sono tutti allarmi validi quello che bisogna andare a vedere nell'allarme è se c'è qualche differenza sul prodotto ovvero a quella marcia in più che mi conviene prendere quello qui una marcia in più c'è allora quello che importa quello interessante quello che proprio dovete andare a vedere negli allarmi è l'installazione ricordate l'allarme sono tutti discretamente buoni quindi sono tutti fatti diciamo in maniera buona sono tutti fatti bene funzionano fanno il loro dovere durano per tantissimi anni quindi non ci sono problemi oltre cambiare le batterie sensori non vi troverete mai nei grossi problemi con gli allarmi quello che cambia sugli allarmi è l'installazione lì è veramente la cosa che differenzia tutto tutto perché se io lascio l'allarme tirato casuale lì con i cablaggi tutti a giro e il connettore per alimentarlo è chiaro che il ladro che arriva montato così non c'è blocco avviamento non c'è assolutamente niente il ladro che arriva lo stacca e lo butta via in due secondi in quattro o cinque minuti vi porta via al camper quindi non è l'antifurto che non ha funzionato è che l'anno se l'è trovato a portato di mano l'ha staccato e se ne è andato via è importante l'installazione non si trova dei cablaggi non si deve trovare l'antifurto deve esserci fatto il blocco avviamento in caso l'altro tenti portare via ci deve essere il blocco avviamento che consente di non avviarsi il motore ed è una cosa veramente veramente importante l'installazione più che del prodotto i prodotti funzionano ma fanno il 10 per cento fanno il loro lavoro stanno lì e vanno in allarme in caso ci sia un ingresso sul camper provano a forzare qualcosa loro scattano suonano ma il 90 per cento lo fa l'installazione ovvero quanto l'installatore bravo a dare ad andare a amalgamare insieme a tutto l'impianto andare a fare intervenire l'antifurto sui blocco avviamento quindi quanto è bravo l'installatore poi a buttarlo dentro nel camper e fare un'installazione fatta bene io ancora oggi sono un solo camper fatto bene solo uno ho trovato tutti gli altri sono fatti male quindi mettetevi un pochino di paura avete l'allarme sapete lo sportello suona ma sicuramente mentre sono il motore si mette in moto e quindi il ladro va via questa è la prova che dovete fare montate sul camper accendete cioè mettete l'allarme fate suonare l'allarme quindi aprite gli sportelli vi mettete dentro a sedere mettete l'allarme lo chiudete aprire uno sportello lo fate suonare e provate a mettere in moto se camper parte la faccenda è seria vi portano via il camper in cinque minuti se il camper non parte beh allora lì il lavoro potrebbe essere stato fatto bene però questo è un altro discorso parliamo di cna perché vi voglio parlare cna che fra l'altro anche il suo localizzatore che funziona comunque discretamente è un prodotto funziona tutto quindi non c'è lini niente ma come funziona gemini come funzionano anche tutti gli altri ma qui c'è una marcia in più anzi direi due marcia in più la marcia in più è qua dentro questo sacchetto anzi vi faccio vedere il video che ho fatto oggi ho fatto questo short ve lo metto qua tanto sono 40 secondi e capite di cosa sto parlando ed anche questo sun living l'abbiamo protetto con un bell'allarme chiaramente blocco e avviamento cavi tutti nascosti allarme nascosto tutto fatto come deve essere fatto chiaramente non inquadro targa niente e soprattutto abbiamo montato un allarme che ti permette questo lasci le finestre aperte ma se un malintenzionato la alza che succede perfetto allarme suona così è il top eccomi qua allora tiriamo fuori da il sacchettino magico questo cos'è questo questo è un sensore che rileva l'apertura ed è un sensore che può essere messo alle finestre basculanti quindi queste qua laterali e può essere messo gli oblò per esempio sensore piccolino eccolo qua lo vedete c'è scritto cna c'è un leddino che si accende quando c'è inserita la batteria in questo caso la batteria non l'ho ancora inserita qua nella bustina quindi chiaramente non si accende cosa di particolare questo sensore ha un accelerometro quindi voi avete un inclinazione in cui lui in caso venga mosso o staccato lui va in allarme questa è una cosa molto interessante perché posso lasciare la finestra diciamo con tutti i sensori classici la devo tenere chiusa una volta che apro la finestra i sensori perdono la loro efficienza mettiamo che la metto al primo scatto come tanti hanno il primo scatto oppure lo apre un pochettino e rimane lì così ferma la finestra metto l'allarme vado via arriva il ladro il ladro alza la finestra un po lui va in allarme suona il ladro prova a staccarlo le vibrazioni o comunque il cambio di leggermente di inclinazione lo fanno suonare lo fanno andare in allarme quindi in tutti i casi in qualsiasi punto io vado a mettere la finestra la finestra è protetta anche se fosse molto aperta il ladro ci incappa la fa muovere l'allarme suona chiaramente quando voi siete dentro vi leggo subito questo è che chiaramente via ma allora che quando sono dentro se c'è un po di vento si muove la finestra con allarme no assolutamente no se ci fosse tanto vento che la finestra potuto tutto tutto un magari uno blo allora quello chiaro che vanno allarme però si deve muovere veramente tanto se si muove un centimetro due centimetri non succede niente se si muove cinque sei sette otto dieci centimetri chiaramente lui vanno allarme fa il suo lavoro questo è secondo me un sensore veramente 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 molto molto interessante il che lo rende un'arma vincente pensate quando siete al mare volete lasciare camper sotto il sole volete lasciare gli oblò aperti volete lasciare un po le finestre aperte siete lì davanti in spiaggia quindi a 50 metri dal camper e volete mettere l'allarme con tutti gli altri antifurti è inutile perché rileva l'apertura delle portiere rivela magari qui l'apertura della porta cellula per chi ce l'ha ma le finestre no le finestre non vengono rilevate non vengono rilevate perché ormai sono aperte quando sono aperte come gli oblò una volta aperti sono aperti e poi anche sugli oblò non è facile mettere un sensore che va a pressione mentre questo si mette facilmente in tutte le tipologie di finestre quindi è un sensore che lo reputo veramente veramente molto ottimo quindi voi state tranquillamente spiaggia qualcuno prova aprire una finestra prova aprire un oblò lui entra subito in azione e ve lo segnala potete lasciare finestre aperte è veramente tanta 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 roba un'altra cosa che è interessante questo lo rimetto a posto perché mi piace essere preciso lo rimetto nel suo sacchettino ci sono una trentina di sensori perché devo montare diversi il cataloghino ve lo faccio vedere qua perché non ce l'ho fisicamente da farvelo vedere perché non mi è arrivato mi sono scordato di ordinare mi serviva mi sono scordato vi faccio vedere la foto e così capite quello che è accenno di nuovo lo schermo così capisco se l'ho un quadro eccoci qua che cos'è questo è un laccetto diciamo che funge come un lucchetto cosa può servire si mette questa scatolina qua fissata al camper porta bici al porta moto a quello che si ha dietro è protetta contro la manomissione quindi se la vai a staccare dalla parete levano allarme e c'è questo cablaggio questa specie di lucchetto con un connettore che viene inserito sotto cosa succede come si vede qui nel disegnino lo fa vedere che c'è lucchettino intorno quando abbiamo le biciclette sul sul porta bici possiamo mettere questo laccetto o una moto uno scooter quello qualsiasi cosa sia possiamo mettere questo laccetto e avere la protezione dei dispositivi che noi abbiamo sopra ma non solo ci fermiamo in un campeggio abbiamo il garage interno scendiamo le biciclette scendiamo lo scooter scendiamo quello che si vuole mettere giù e cosa succede lo mettiamo la notte e la sera accanto al camper e andiamo via possiamo mettere questo laccio ok possiamo agganciarlo allo scooter alle biciclette intorno a quello che è lasciarle in terra e andare attaccare di nuovo a questo sensore e lui in caso qualcuno provi a tagliare il cavo oppure a staccarlo lui vanno allarme e voi saprete se vi stanno portando via le biciclette o lo scooter o quello che sia non è per niente male quindi tutto quello che lasciate fuori può essere diciamo protetto con questo dispositivo associabile senza alcun problema all'antifurto quindi bellissimo bellissimo prodotto il localizzatore chiaramente fatto lavoro il suo e quindi questo è tutto un kit che secondo me è molto 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 valido sinceramente vi posso anche dire che avrei quasi una mezza voglia di togliere il mio gemini gemini che fra l'altro è un antifurto validissimo ed installare il cna per questi sensori che mi consentirebbero di poter tenere le finestre aperte ed essere allarmate lo stesso stessa cosa degli oblò sto lottando sinceramente a oggi se dovessi scegliere antifurto probabilmente scegliere il cna al 99 su 100 ma mi verrebbe voglia di cambiarlo su questo camper sinceramente di togliere gemini e andare sul cna per proteggere porte finestre tutto in maniera corretta ma mi ferma il fatto che il gemini c'è già è già montato dovrei togliere tutto e andare a mettere quello da una parte per montare questo e quindi rimbattermi nella spesa dell'acquisto chiaro che io si sa che lo pago meno rispetto a voi però chiaramente anch'io lo pago che soldi sono soldi e mi dispiace dover andare a spendere soldi su un oggetto che comunque funziona sempre il gemini funziona non ha alcun problema sta funzionando alla grande senza alcun problema il cna però mi ispira veramente tanto chissà se magari un giorno lo sostituirò oppure magari su quello nuovo quando si cambierà camper magari andrò su questo e così almeno mi devo la soddisfazione di avere anch'io i sensori con l'acceleromel intanto vi ringrazio per avermi seguito in questo video e vi saluto cna un bel antifurto ragazzi ciao